Al via da oggi, lunedì 20 settembre, la somministrazione della terza dose di vaccino per immunodepressi over 80 nell'Asl Napoli 3 Sud, come annunciato dal direttore generale dell'azienda sanitaria Gennaro Sosto, che nei giorni scorsi ai microfoni di TV City aveva fatto il punto sulla campagna vaccinale. Per le categorie interessate si procederà nel modo seguente. Se non deambulanti, saranno vaccinati presso il proprio domicilio e le RSA. Se deambulanti, invece, potranno recarsi presso i punti vaccinali già operativi senza alcuna prenotazione. Prima di effettuare la terza dose, devono essere necessariamente trascorsi sei mesi dalla seconda. Immunodepressi over 80 in tutta l'Asl Napoli 3 Sud sono circa 14.000. Intanto ieri è stata somministrata la terza dose per tutti i dializzati dell'azienda sanitaria, tutti in un'unica giornata. Raggiunto al momento l'80% della popolazione vaccinabile. L'obiettivo è raggiungere il 90% nel mese di ottobre. I dializzati a Asl Napoli 3 Sud sono circa 900. Le dosi sono state somministrate nei centri dialisi accreditati. Intanto il presidio di Bosco Trecase resta la struttura sanitaria Covid di riferimento dell'Asl, dove al momento, come dichiarato da Sosto, il numero dei ricoverati non è elevato. Spesso, ha poi ribadito il direttore generale, oltre il 90% dei ricoverati non è vaccinato. Purtroppo questa tipologia di utenza accede in ospedale.